La pioggia battente caduta nelle ultime ore sulla fascia ionica cosentina per la quale lunedì era stata diffusa l'alerta meteo di livello rosso ha provocato forti disagi nel comune di Corigliano Rossano l'acqua ha invaso alcune strade nella località Toscano Vespucci raggiungendo anche i piani inferiori di alcuni fabbricati i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere invalido anziani impossibilitate a lasciare le loro case a causa dell'acqua diversi gli interventi dei pompieri anche con l'impiego di idrovore per aspirare l'acqua fu riuscita dai tombini ma non sono segnalate al momento situazioni di particolare gravità. A causa di un allegamento dovuto alle forti piogge è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 106 ionica tra il chilometro 262 e il chilometro 265 500 nel territorio comunale di Strongoli. Uomini e mezzi di ANAS sono intervenuti per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. La nuova ondata di maltempo dalla scorsa notte continua ad imperversare in Calabria con una pioggia battente che soprattutto sulla fascia ionica cosentine nella provincia di Crotone continua a causare allagamenti e disagi in particolar modo sulle strade. Perché la 106 non è mai divenuta una priorità della politica? Allora questo lo dovrebbe chiedere a quelli che ci sono stati prima. Adesso penso che è una priorità perché almeno io parlo per me personalmente ma anche per il ministro Toninelli in questo caso appena sono stata eletta sono andata all'ANAS per avere un quadro generale di tutte le infrastrutture viarie calabresi che mi è stato fornito in modo abbastanza semplice con delle relazioni anche sui costi, sulle progettazioni, dossier che io ho fornito a Toninelli e infatti anche per quanto riguarda il lotto Sibari-Capospulico il ministero già il 26 luglio ha reso disponibile una nota in cui non ha nulla contro questa opera anzi però pone l'attenzione sui tempi certi perché sappiamo che lasciando passare il tempo anche le progettazioni diventano inutili e fuori vecchie rispetto come diceva prima il presidente aumentano anche i volumi di traffico. C'è l'attenzione quindi del governo su questa arteria fondamentale per lo sviluppo della costa orientale della Calabria? Sì l'attenzione è fin dall'inizio, il ministro Toninelli ha avuto incontri con tutti i parlamentari calabresi anche per avere un'idea più chiara di come viene gestita la situazione viaria in Calabria e di com'è in realtà. Ha tutti i documenti a disposizione e li sta attenzionando e comunque gli interventi che vengono fatti sono sempre sotto osservazione. È chiaro che si fa in ogni caso un rapporto costi benefici ma non si ha nessuna intenzione di bloccare nulla. Un'ultima cosa, peraltro dai dati illustrati quest'oggi, uno dei dati veramente, uno dei tratti più preoccupanti da Bollino Rossi è proprio quello delle sovratesi che le conosce molto bene, ben 20 vittime su 24 nel quinquennio 2013-2017. Certo, è questo per dimostrare l'attenzione, che è un'attenzione politica libera da altri interessi e il fatto che abbiano iniziato dei lavori di messa in sicurezza già dal 15 ottobre del tratto Davoli-Guardavalle. Proprio sulla base di una mia richiesta specifica, visto che c'era l'impossibilità di attuare il megalotto della nuova 106 su quel tratto, ho chiesto di porre in essere degli interventi di messa in sicurezza. Lì sono stata guardata un po' strana, però ho scoperto che c'erano progettazioni e fondi e adesso possiamo contare su questo. È chiaro che poi ci sarà un lavoro di collaborazione con i sindaci per attuare altri interventi. Dopo l'assemblea dei segretari di circolo nel corso della festa regionale dell'Unità, i segretari IPD delle cinque federazioni hanno deciso di intraprendere un percorso di confronto e di ascolto delle diverse realtà territoriali attraverso incontri mirati con i segretari di circolo e con la comunità di base del partito. Lo riferisce un comunicato del PD Calabria. Il percorso, detto nel comunicato, si svilupperà in 16 giornate dal 26 ottobre al 10 novembre e nasce con l'obiettivo di raccogliere idee e contributi sulle prospettive del partito regionale sulle future alleanze e sulla costruzione, anche in Calabria, di una forza politica d'opposizione e alternativa all'attuale governo. I Dems chiedono le primarie per la scelta del candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione e Giuseppe Terranova, componente della Commissione regionale per il congresso, esponente del movimento, a ribadire la posizione della componente interna al PD. Non ci rendiamo complici di un disastro annunciato e scritto. Abbiamo tentato, spiega in tutti i modi all'interno della Commissione regionale per il congresso, di proporre effettivamente idee e percorsi tesi a far uscire l'EPD Calabria dallo stato vegetativo in cui versa. Non ci sono al momento, aggiunge, candidati dell'EPD per la prossima tornata elettorale, perché a decidere dovranno essere gli elettori dell'EPD e del centro-sinistra attraverso le primarie. È in programma venerdì 26 ottobre a Reggio Calabria la prima conferenza regionale sulla violenza alle donne che si svolgerà nell'auditorium Calipare di Palazzo Campanella. Aprirà i lavori il presidente dell'Assemblea legislativa, Nicola Irto. La conferenza avrà quali i principali protagonisti? I soggetti che operano in prima linea, dai centri antiviolenza alle forze dell'ordine, dai centri di ricerca universitari agli ordini professionali. A concludere i lavori sarà il presidente della Giunta regionale, Mario Liverio. Un nuovo colpo alla cosca d'Indrangheta a Barbaro Papalia. Dall'alba di martedì i carabinieri della Compagnia di Corsico in provincia di Milano hanno eseguito a Milano, Como e Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 italiani e 4 marocchini ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droghe di ne particolare cocaina. Le indagini sono dirette dalla direzione distretto all'antimafia di Milano ed hanno consentito di accertare che il gruppo, costituito e organizzato da quattro fratelli della famiglia Barbaro Papalia, gestiva lo spaccio di cocaina servendosi di una fitta rete di pusher di origine magrebina. E' di un morto il bilancio di un incidente stradale a Nicotera in via Borgo. Per cause ancora in corso di accertamento un'ape 50 con a bordo il settantenne Fortunato Chirico si è ribaltata finendo fuoristrada mentre stava percorrendo una curva. Le condizioni del ferito sono subito apparse grave e gli operatori del 118 accorsi sul posto con un'ambulanza a causa della gravità delle ferite sul posto è stato fatto atterrare un elisoccorso per un veloce trasferimento all'ospedale Pugliesi di Catanzaro. L'anziano che ha riportato un trauma cranico è però deceduto durante il trasporto. In questi giorni si stanno completando i sopralluoghi degli esperti nelle gole del Raganello e adesso aspettiamo gli esiti delle consulenze tecniche. Lo dice all'Agi il procuratore capo di Castrona, Villari e Eugenio Facciolla in relazione all'inchiesta aperta per la morte di 10 persone avvenuta il 20 agosto scorso nelle gole del torrente Raganello a Civita, centro del parco del Pollino. Al momento ci sono sette indagati. Le cose sono comunque abbastanza chiare, possiamo dire che siamo in addirittura d'arrivo, dice ancora Facciolla, forse ci saranno novità nei prossimi giorni. Gli agenti del reparto prevenzione crimine Calabria settentrionale hanno arrestato in flagranze di reato per rapina aggravata un giovane di 23 anni già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. I poliziotti lo hanno bloccato dopo che aveva sottratto con violenza la borsa ad una donna. Gli agenti hanno visto la vittima in una strada del centro cittadino. La donna, urlando e chiedendo aiuto, rincorreva un ragazzo il quale le aveva sottratto la borsa posta sul sedile lato passeggero della sua auto procurandole un trauma alla mano. Il giovane, peraltro già denunciato nei giorni scorsi per reati della stessa specie, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato raggiunto e bloccato. Il PM di turno presso la procura della Repubblica di Cosenza ha disposto alla detenzione in carcere in attesa del processo per direttissima. Un negozio di artigianato e prodotti etnici ubicato nel centro storico di Tropea è andato in fiamme nella notte, ingenti danni ancora in corso di quantificazione. I carabinieri sono impegnati ad accertare se da una piccola finestra laterale trovata a divelta i gnoti abbiano versato liquido infiammabile. Il negozio è gestito da anni da due architetti di nazionalità argentina che con i loro prodotti hanno partecipato e continuano a partecipare a mostre nazionali e internazionali. Presentata lunedì pomeriggio nella città della regionale la tredicesima edizione del premio letterario nazionale Corrado Alvaro che si svolgerà il 26 ottobre prossimo a Catanzaro nell'auditorium Casalinuovo con il sostegno della regione Calabria. Il premio è intitolato ad uno dei simboli della cultura calabrese e da San Luca, paese nativo di Alvaro, si sposta per questa edizione nel capologo di regione dove peraltro lo scrittore ha studiato al liceo classico. La giornata si articolerà in due momenti, in mattinata i siluti istituzionali e i premi agli scrittori che dialogheranno con gli studenti e nel pomeriggio lo spettacolo letterario in omaggio ad Alvaro con Carmine Abbate e Cataldo Perri e la consegna dei riconoscimenti speciali. Con l'assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano alla conferenza stampa sono intervenuti anche il presidente della giuria, lo scrittore Carmine Abbate, la scrittrice Marisa Fasanelle e lo scrittore Cataldo Perri, i componenti della giuria insieme a Corrado Calabro e Domenico Dara. Da San Luca la manifestazione si sposta nel capologo di regione Catanzaro anche per regionalizzarla ulteriormente proprio perché è dedicata ad uno dei simboli della calabria. Certo, Alvaro è nato a San Luca ma è calabrese ed europeo e di tutti. Poi nell'ambito delle ricorrenze del sessantesimo di Alvaro si è voluto dare un taglio diverso anche al regolamento del premio che prima la giuria erano accademici del comitato scientifico e quest'anno sono stati tutti scrittori calabrese, Carmine Abbate, Corrado Calabro, Domenico Dara, Cataldo Perri e Marisa Fasanella. Poi si è scelta la città di Catanzaro anche come un ricordo dove Alvaro ha studiato e ha conseguito la motorità liceale, dove ha fatto anche i primi interventi delle prime conferenze e Catanzaro anche perché è stata una delle poche città a ricordare nel 2006 il cinquantesimo della morte di Alvaro con una mostra a San Giovanni che è durata un mese curata dal compianto professor Pazzarella. Certo, Corrado Alvaro meriterebbe da tutti noi un impegno molto più sostanzioso perché è un autore che tutto il mondo conosce, è un autore che non ha avuto tempo per non esistere, esiste oggi come allora e quindi è importante che ci sia questa unità di intende, che ci sia la volontà di portare avanti i nostri autori. Basta farsi leggere qualcosa su Alvaro e vengono fuori delle frasi meravigliose che sono a noi molto vicine, quindi è un autore su cui bisognerebbe puntare per farlo rinascere ancora una volta e soprattutto nel cuore dei calavaressi. Grazie a tutti!